Per il mese di settembre 2022 ho deciso di fare una rubrica dedicata agli uomini alfa e agli uomini beta. Perché questa scelta? Beh, è una semplice conseguenza di quello che vedo quotidianamente sulla linea di demarcazione tra i potenziali clienti e i clienti paganti. In questa transizione ne vediamo ogni giorno di tutti i colori, molto di più ora rispetto a quando non eravamo affermati. Questo dovrebbe farvi riflettere su quanto la maggior parte degli uomini non sia già brava. Vi anticipo che sarò molto arrogante in ogni singolo contenuto. So che a qualcuno non piace che io dica la verità, però siccome vendiamo ogni giorno migliaia di euro di servizi e ora grazie allo store digitale vendiamo anche di notte, sono nella condizione di poter dire la verità. Un lusso che pochi formatori hanno, perché la maggior parte di essi sono ancora fermi al regime forfettario. Nei casi dell'uomo beta prendo spunto dalle situazioni reali che accadono in Playlover Academy. Nello specifico ci sono alcuni ragazzi che si rivolgono a noi e quando è ora di fare il pagamento dicono questa frase. Eh, il mio conto è controllato dai miei genitori, devo parlarne con loro. Attenzione, si tratta di persone maggiorenni. Ora, tu immagina questa scena. Devi uscire con una ragazza e avete deciso di andare a cena in un ristorante. Tu pensi già a quali tecniche usare durante il primo appuntamento. Perché, giustamente, ambisci al bacio. Non vuoi fallire. Tuttavia, prima di uscire dalla porta di casa, devi fare un giro da mamma e papà per chiedere loro i soldini. Perché tu non hai il controllo del tuo conto corrente bancario. Ecco, se in questo frangente la ragazza fosse lì presente, la sua attrazione nei tuoi confronti scemerebbe istantaneamente a zero. E non ci sarebbe più alcuna tecnica per risollevarla. Perché capirebbe che non sei un uomo, bensì un bambino. Quindi, se sei maggiorenne e hai il conto bancario controllato dai genitori, devi far vedere loro questo video. Signori, voi state letteralmente rovinando vostro figlio. Perché così non si responsabilizzerà mai. In quanto sarà sempre controllato da mamma chioccia. Il ragazzo, purtroppo, è in queste condizioni perché voi lo avete ridotto così. Ma in futuro, un'eventuale donna non sarà anche la sua seconda mamma. Quindi, è necessario svegliarlo fuori. Dopo che si sarà svegliato fuori, potrai imparare le tecniche per il primo appuntamento.